Eccoci cari amici, siamo quasi alla fine del nostro carrello, carrello portabobine. Allora, ricordiamoci la funzione di questo carrello qui. Questo carrello qui porta bobine, no? Un attimo, qui è successo un casino. Questo carrello portabobine ci serve per appunto portare quattro bobine contemporaneamente. Bobine di che cosa? Di guarnizioni, abbiamo detto per quanto riguarda le guarnizioni dei serramenti. Ora, noi l'ultimo lavoro che abbiamo fatto, abbiamo fatto la levetta e il pettine e dobbiamo ora andare ad assemblare questo gruppo portabobine. Il gruppo portabobine che è fatto dal rocchetto, che abbiamo detto che questo è il rocchetto, gli abbiamo dato questi nomi, poi date i nomi che volete. Poi vabbè, qui c'è proprio il carrello vero e proprio, con qui gli assi sui quali andranno a inserirsi il nostro canotto scorrevole. Questo è il rocchetto e questo è il canotto scorrevole andrà sul rocchetto, andrà su questo tubo più grande. Quindi abbiamo un tondo qui dentro, abbiamo il rocchetto e abbiamo poi il canotto che va sul rocchetto. Ok, che poi con un grano noi faremo in modo che il grano non faccia ruotare il canotto. Ok, qui metteremo il grano, in modo che andrà a scorrere lungo quella scanalatura senza ruotare. Ok, detto questo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo agire in questo modo. Allora, cosa abbiamo fatto finora? Facciamo un piccolo inventario. Abbiamo fatto questo sottoassieme, questo sottoassieme che abbiamo detto è una marca e l'abbiamo chiamato telaio tubolare. Poi abbiamo fatto il canotto che è un sottoassieme, abbiamo fatto il rocchetto che è un sottoassieme, abbiamo fatto il gruppo passacavi che è un sottoassieme e ora dobbiamo fare questo sottoassieme. Ora, uno potrebbe dire ma perché non lo montiamo direttamente qui, poi facciamo un comando serie e tutto quanto. Qui si apre un discorso un po' particolare che abbiamo già fatto tante volte ed è sempre questo. Chi lavora nel mondo del CAD sa che l'ordinazione, l'ordinamento che si dà quando si fa un lavoro con tanti assiemi, con un grande assieme finale, è sempre meglio lavorare bene con i sottoassiemi. Ora io quello che vi sto insegnando è un livello veramente base, ma quando andrete a lavorare e farete, andrete a lavorare o già lavorate o comincerete a utilizzare il CAD 3D nel vostro lavoro, quindi per tutti voi, che siate studenti o gente che già lavora o appassionati, chiaramente vi troverete di fronte a delle strategie da scegliere. Quindi nel mondo del lavoro troverete strategie fantastiche perché la gente ogni giorno deve affrontare un problema e risolverlo. Io vi sto insegnando un livello base per cui non ho l'esperienza di chi gestisce assiemi di mille pezzi, 2000 pezzi, 3000 pezzi, anche 100 pezzi, capito? Quindi io quello che vi sto ora improntando è un metodo, diciamo, un livello base attraverso il quale comunque apprendere una disciplina, un modo disciplinato per affrontare gli assiemi. Quindi avete visto tutti questi sotto assiemi, ok? Ora andiamo a crearci un sotto assieme simile a questo qui, ok? Assieme mozzo, io questo qui gli cambierei il nome, lo chiamerei, questo l'ho già dato un nome perché fa parte del disegno che ho fatto iniziale, no? Questo che faremo noi magari lo chiameremo gruppo porta bobine. Eh, oh, il discorso è questo, eh? Il discorso è questo qui, questo signore qui fa questo lavoro, ok? Questo lavoro significa che quando io metto una bobina che ha un diametro interno diverso dall'altra, agendo su questo canotto scorrevole vado ad ampliare i miei tre punti di contatto che si allargano in modo simmetrico, quindi giacciono sempre su una circonferenza fino ad incontrare la circonferenza interna della bobina e bloccarla. E poi ci dà un avvitamento qui, qui sopra su questa vite che va a bloccare il canotto. Ok. Quindi, partiamo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare, abbiamo detto un assieme, quindi io vado ad aprire, eh, un, scusate, non vado ad aprire, vado a creare un nuovo, standard IAM, qui non ho nulla di saldato, quindi dico standard IAM, in questo standard IAM, no? Che io devo, eh, voglio salvare già con un nome, abbiamo detto, gruppo portabobine. Bobina. Che questo è un gruppo che porta una bobina, ok? Salva. Ora faccio, posiziona, posiziono, vado, che cosa fare? A scegliermi, eh, per esempio, andiamo per ordine, andiamo a scegliere il rocchetto, ok, pulsante destro, posiziona, fissato l'origine, ok. Vabbè, potremmo metterlo magari dall'altra parte, non fa niente, non ci comporta molto. Ok, questo nostro, voi dovreste averlo saldato tutto, adesso ho dato solamente delle parti prova, ora vado a inserire che cosa? Vado a posizionare, posiziona, posiziona, il canotto scorrevole, ok, e lo metto qui. Poi, posso già posizionarlo, e gli dico solamente di farmi un vincolo, quindi con rotazione libera, ok, rotazione libera, lo predispongo in modo da metterlo come vorrei all'incirca, in modo da non invertire, poi gli faccio, vincolami questo asse, con questo asse, applica. Chiaro che lui è libero ad andare dove vuole, una cosa sicuramente, non deve essere libero di fare, è quella che adesso noi lo ruotiamo e diremo, metteremo, appaieremo, questi, vedete, questo con quello là, lo appaieremo, come faremo ad appaiarlo? Allora, questo ha un'asse, quindi lui è, ha un'asse di origine che passa di qui, questo signore qui non può ruotare, perché è bloccato, non può ruotare perché è bloccato, allora adesso dico, ha questo, canotto scorrevole, ok, dove sei? ok, vado a vedere le sue origini, e questa origine, andiamo a vedere se passa, perfetto, passa di lì, così gli diciamo, diciamo, ok, di vincolarla, alla, a questo piano, no, non la, vincola, abbiamo detto, questa origine, questo piano, ok, con, questo, applica, ok, ora, qui dovremo mettere dentro un grano, ve lo cercate voi, metterete dentro un grano, adeguato, che vada dentro a scorrere in questa, scanalatura, non andrà fissato in modo, in attrito, quindi andrà solo, bloccato, bloccato, in modo che lui, bloccato, ma che possa scorrere, quindi sia un po' più piccolo, di diametro di questo, in modo che lui possa scorrere, senza ruotare, noi ci siamo lanciati con un vincolo, dopo di che cosa faccio, vado ad inserirmi, posiziona, posiziona, posiziono la levetta, apri, e ne metto una, e una due, poi faccio posiziona, posiziona, e vado a mettere il pettine, ok, metto il pettine, ragazzi, tutte queste cose sono cose migliorabilissime, io ho progettato questa cosa qui, un po' per gioco, ma funziona, sicuramente, ma ci devono essere apportate alcune modifiche, la modifica che si può apportare, per esempio, è capire, adesso andiamo a montarle, e dopo facciamo questa riflessione, il montaggio di questa è fatta così, allora, andiamo a dire, che, questa, vincoliamo questa piastrina, qui, contro questa, applica, ok, vedete di qui, ora gli vado a dire, di vincolare, in coincidenza, questo asse, attenzione, questo asse, non il punto, l'asse, con questo asse, applica, qual è il suo grado di libertà, è questa, la rotazione, ok, può ruotare in questo modo, ora, dalla parte opposta, da questa parte, io posso vincolare, vincola, ora, però, da questa parte, questo, con questo, applica, ok, stessa cosa, facciamo adesso, per l'asse, quindi, vado a vincolarmi, l'asse, di questa, parte cilindrica, con questo asse, applica, ok, questi signori, ora, possono muoversi, ma, io, li voglio bloccare, come faccio bloccare, gli dico, fammi un vincolo, tra, questo asse, e questo asse, applica, ok, andiamo a vedere, di fronte, cosa si vede, vedete che c'è uno spazio, quindi, voi progettisti, più fini di me, andate nei dettagli, andate per esempio, a svasare il foro, a scegliere una vite, a mettere qui dentro, una rondella, magari di teflon, che fa da spessore, leggermente, un po' più, più piccolina, in modo, che non crei un attrito forte, quando si va a chiudere, con, con la vite qui, con il perno, che metterete qui, stessa discorso qui, svasate, svasate, per magari poi, mettere una vite, una vite di tipo, a testa, a testa svasata, in modo, che non sporca, tutta la testa, queste considerazioni, questo è il lavoro, del progettista, è un lavoro bellissimo, il progettista, allora, è una persona, che crea, ok, allora, io non sono un progettista, attenzione, quindi, allora, adesso vado a mettere dentro il pettine, sì, questo l'ho progettato io, ma, non è, diciamo che, è un po' una stupidata, non è un, un gran progetto, eh, allora, adesso, devo mettere questo pettine qui, come lo posso mettere? Pettine lo posso mettere, magari, vincolare, questo, con questo qui, attenzione, lui deve andare in mezzo, quindi, vuol dire che devo dire, vincolami, questo piano, con questo, ok, applica, poi, volete vedere se è giusto? Andate sul piano qui, di frontale, vedete che è dentro, ok, ok, a questo punto, diciamo, qui, girati qui, che ti vedo meglio, vincola, questo asse, con questo asse, applica, ok, a questo punto, questo signore, cosa può fare? Può fare una serie di cose, può andare in giro, attenzione, che si sbellina tutto, qual è il vincolo da dare qui? Il vincolo, può essere asse con asse, no, non può essere, se no, non lo muoviamo più, può essere un asse, con un piano? Eh, può essere, datevi una risposta, ora vi dico io, se può essere, deve essere, non può essere, deve essere così, potrebbe esserci anche un altro vincolo da poter dare, potrebbe esserci anche un vincolo di, di tangenza, creare una tangenza tra questa superficie e questa lineare, ma quella che geometricamente si avvicina di più al concetto, puro è quella, è questa qui, di far vincolare, quindi vincolami, questo, questa linea, questo asse, con che cosa? Con un piano, quale piano? il piano è questo, allora, il piano è, andiamo a beccarlo, della levetta, il piano della levetta, quindi la levetta la apriamo, ok, e andiamo a vedere le sue origini, andiamo a trovare il piano, no, scusate, non la levetta, il pettine, sembrava strano, pettine, origini, immagino già da casa che tutti dicono, cazzo sto dicendo, però, eh ragazzi, attenzione, eh, adesso mi sto dedicando alla costruzione di un dojo, per tirare con l'arco orientale, che è la mia passione da oltre 40 anni, per cui, un po', vi sto trascurando per questo motivo, oh, chiuso la parentesi, allora, stiamo facendo un vincolo, ripeto, tra un asse, un asse infinito, eh, a destra e a sinistra, viaggia nell'infinito, eh, come concetto, con un piano, che è questo, ok, si sono allineati, vedete che lo accetta, non mi crea conflitto, io dico, ok, applica, cosa succede? Adesso succede che se io sposto questo, lui mi si muove, rimanendo, parallelo, parallelo, ok, perché è parallelo? Perché io ho creato qui una geometria che me lo rende parallelo, altrimenti era inclinato e rimaneva parallelamente inclinato, aprendosi, chiudendosi, quindi quel calcolo lì, fatelo bene, eh, fatelo bene, vedete, questo, questa linea che passa di qui, è parallela a quella che passa di qui, grazie a cosa? al fatto che abbiamo creato due aste, ok, vincolate su, su, dei fori che passano su questo piano, ok, quindi, cosa, cosa ci rimane da fare qui? qui è praticamente abbiamo fatto tutto, quindi qui terminerebbe il video tutorial di questo sotto assieme, ormai signore abbiamo, siamo alla fine, allora vi ricordo una cosa, mettete un grano anche qui, completate le saldature dove le avete, le levette, se non, se, se andate a completare anche qui con delle viti, scegliete voi delle viti, eh, io vi do un consiglio, qui la vite come deve essere, per essere scorrevole, deve essere una vite che passa qui dentro, abbia una parte non filettata, oppure, potete mettere una vite e un, e un, e un cilindretto, forato, che mi, mi ha questo diametro, vedete, questo diametro, con un decimo in meno, eh, uno, due decimi in meno, mi va dentro la vite, la vite quindi non è a contatto, il filetto non è a contatto con l'asola, ma c'è a contatto una specie di rullino, state creando un rullino, ecco, deve esserci dei giochi, dopodiché, questo rullino, esce leggermente, guardate, esce leggermente da questo spessore, ok, esce leggermente, e va, su, e, diciamo, in contatto con una rondella e un dado, quindi, il dado e rondella, eh, stringono, eh, il, l'anellino, ma non toccano dentro, non toccano dentro il nostro pettine, stesso discorso, lo dovete fare anche su questo punto, ok, simmetricamente all'altra parte, in questi punti, e questi, e qui, come vi ho detto, dovete mettere una rondella, magari di, di un materiale autolubrificante, eh, e, e poi, con un, un accoppiamento di vite, dado, rondella, che non vada, a, eh, stringere, ma che stringa su se stessa, in modo da lasciare quel gioco, per, eh, per far sì che tutto quanto sia scorrevole, ok, quindi, eh, il nostro pezzo è, quindi, qui terminato, sì, par de balle è terminato, prof, ma manca una cosa importante, che cosa? Manca, manca che, questi pezzi, questi pezzi qui, io lo dovrei fare su, su tutti e tre, su tutti e tre i piani, no, a 120 gradi, ma allora come faccio? Posso fare un comando serie, gli dico, fai un comando serie di questo pezzo, naturalmente voi avrete messo dentro anche le viti, avete messo tutto, fate, procedete a fare questa, eh, comando serie, eh, di tipo polare, eh, di questo pezzo, questo e questo qui, ok, circolare, rispetto a che cosa? Rispetto a questa circolarità, o anche questa, non importa, o l'una o l'altra, sono coassiali, quindi intorno a quell'asse, ne fate tre, tre, ok, e di questi tre, però dovete farli a 120 gradi, ok, a 120 gradi, applica, ok, quindi il nostro gruppo, adesso, è fatto, io perché vi dico, finite voi, fate queste cose, per due, due, tre motivi, motivo numero uno, sto diventando molto pigro, motivo numero due, abbiate, vi lascio la possibilità di personalizzare, quindi, avete anche uno stimolo, in più per fare bene le cose, e sentire, che la cosa vi appartenga di più, che un copiare e riprodurre, basta, e il terzo motivo, terzo motivo, chi si ricorda il più il terzo motivo, il terzo motivo, qual è? inventatevene uno, ho detto una cazzata, sono tre, uno o due, sentite, vi saluto, e vi do appuntamento, al prossimo video, che sarà, praticamente, dovrebbe essere, definitivamente, l'ultimo di questa serie, dopodiché, vi ricordo, inizierò, con, diciamo, una certa, tranquillità, un corso di carpenteria metallica, abbastanza, più teorico, che pratico, per chi, tutti quelli, che me l'hanno richiesto, sono interessati, vi saluto, buona serata, ciao.